Per Caldarola è una giornata importante, si consegna le ultime casette, 107 le casette realizzate a Bolognola, con le ultime superiamo le 1500 casette che danno l'idea e la dimensione del lavoro fatto. E' il 22esimo comune che completa il suo plafond, ne restano 4, 2 sono abbastanza avanti, 2 un pochino più indietro ma stanno tutti lavorando per dare una casa ai marchigiani. Come in tutte le occasioni in cui si consegna l'ultima casetta la comunità si ritrova, si ritrovano quelli che hanno fatto questa scelta, c'è la possibilità di guardare avanti con fiducia. La fase successiva è quella delle ricostruzioni, gli strumenti sappiamo bene ci sono, i tempi comunque ci vorranno ed è bello poterlo fare stando vicino. La comunità è il miglior antidoto rispetto a qualunque problema. Quando ci sono state nella storia grandi difficoltà la forza delle persone è stata quella di stare insieme, di stare uniti e ricostituire la comunità significa questo momento, questo passaggio. Per noi è un momento molto importante e speriamo che i 4 comuni che devono completare questo percorso lo possano fare quanto prima.